Siamo con Matteo Angeli, difensore del Limolese, premiato questa sera, come dicevi tu, Michelangelo come mio giovane esordiente del Girone B, classe 2002. Innanzitutto complimenti a loro per il premio che ricevi stasera. Grazie mille, sicuramente un grande riconoscimento, sono molto orgoglioso di questo, ma non deve essere come un modo per migliorare ancora me stesso e cercare di arrivare più in alto, perché ponendosi piccoli obiettivi poi alla fine si arriva al grande obiettivo finale che ti sei posto all'inizio della tua carriera. E questo è quello che spero di fare. Bene, hai visto le idee chiarissime, Margherita. È chiarissimo, anche perché hai cresciuto nel vivaio Milan, giusto se non erro, e ti definiscono spesso un difensore goleador. Cinque reti segnate quest'anno? Sì, ho segnato cinque reti, un difensore colpizio di gol non lo so, sicuramente quest'anno è andato molto bene da questo punto di vista, ma se un giocatore segna tanto è sicuramente merito di tutta la squadra, perché il calcio è uno sport di squadra, quindi bisogna dare merito a tutta la rosa, non a tutti gli undici. Quindi li ringrazio uno per uno. Beh, insomma, nel farti di nuovo i complimenti per questo premio, a chi ti ispiri? Come difensore sicuramente il mio difensore preferito è sempre stato Sergio Ramos, il giocatore attuale del Paris Saint-Germain. Il vizio del gol? Il vizio del gol, ma è quello che per me rappresenta di più il ruolo di difensore. Ovviamente dire di sperare di diventare come lui è un po' esagerato, però mai dire mai. Io ammiro tanto quello che fa lui per la sua direzione al lavoro e per quello che ha fatto nel mondo del calcio.